E' una partita che tutti sappiamo, è inutile che ci nascondiamo, ha pochissimo significato se non zero significato per la classifica, però ha un grandissimo significato per noi e in quanto noi, mi riferisco a noi dello staff tecnico, a cui non è assolutamente piaciuto l'atteggiamento della partita di domenica, per cui questo gruppo non ha mostrato grande sensibilità durante questa stagione a comprendere quali erano le motivazioni della società, quanto era il feeling con la città, qual era la relazione con la storia di questo club, non ha mostrato grandi segnali durante la stagione di comprendere tutto questo. Onestamente dopo la partita con Pistoia eravamo relativamente ottimisti, pur non essendo così presuntuosi da pensare di aver cambiato completamente un trend, però avevamo avuto dei segnali di presenza emotiva da parte del gruppo in una partita molto dura e molto difficile e quindi siamo andati alla partita con Caserta con del moderato ottimismo, di aver avuto segnali in una certa direzione. Purtroppo la partita con Caserta ha smentito tutto questo, ci ha deluso tantissimo, siamo rimasti molto amareggiati, anche se poi magari forse a conti fatti con la vittoria non avrebbe cambiato il destino di questa stagione, però sicuramente ci dà l'opportunità di andare alle ultime tre partite con un traguardo ancora raggiungibile e quindi dare un significato in questo ultimo periodo della nostra stagione. Invece l'atteggiamento che abbiamo avuto con Caserta è stato sconcertante, per cui ci aspetti, siccome di questo abbiamo parlato a lungo con la squadra, individualmente e col gruppo, con i filmati, con tutto quello che si poteva mettere sul piatto e continuando a sperare che sia un gruppo di professionisti seri, ci aspettiamo che domenica, indipendentemente dal fatto che sia una partita senza grande patus per la classifica, sia per noi che per Brindisi che in fin dei conti la sua classifica l'ha già raggiunta, anche se viene a due sconfitte, quindi sicuramente vorrà fare bene davanti a casa propria, davanti ai propri tifosi e sta preparando i playoff, beati loro, noi invece dobbiamo dimostrare di aver almeno all'ultimo tuffo compreso una parte di questo messaggio che arriva forte e chiaro da parte di tutti, della città, della proprietà, della società, dello staff tecnico. Per cui speriamo che questo invito ha un certo tipo di atteggiamento alla partita, venga raccolto. Io me lo auguro, perché le parole sono state chiarissime, siamo di fronte a professionisti regolarmente e profumatamente retribuiti, tutti i giocatori qui sono in scadenza di contratto e quindi penso abbiano interesse come me e come chiunque appartenga a questa squadra a finire bene la stagione perché devono trovare un altro posto di lavoro, in questo momento storico non solo del basket, penso che sia un discorso abbastanza delicato a cui bisognerebbe essere sensibili, quindi tutti ci auguriamo. Questa società non ha mai ricorso alle maniere diciamo forti, ecco perché non ci crede, perché pensa di avere a che fare con persone mature e responsabili con professionisti. Il discorso è stato fatto chiaro e chiarissimo, ci aspettiamo adesso una risposta al campo, soprattutto da chi ultimamente non sta dando perché abbiamo anche guardato dal punto di vista statistico, proprio meramente statistico per quello che vuole può significare, abbiamo anche lì dei messaggi chiari perché individualmente bene o male i ragazzi sono migliorati tutti, tutti chi più e chi meno. Abbiamo solamente un calo importante sotto tutte le voce statistiche di Justin e abbiamo un importantissimo calo a rimbalzo da parte di Odi, ecco quindi tutti devono dare un certo tipo di approccio e di immagine, ci devono proprio dimostrare un certo tipo di attaccamento e di spirito, ecco a maggior ragione ci aspettiamo anche un contributo tecnico più solido da questi due giocatori che in questo momento non ci stanno dando tanto e stiamo soffrendo tanto a rimbalzo, abbiamo sofferto Roma dove abbiamo perso e abbiamo sofferto tantissimo domenica dove Ivanov e compagnia ci hanno fatto molto male, per cui ci auguriamo che le parole siano state recepite. Il cocio lei ha detto che anche dal punto di vista dell'ora ha avuto modo di confrontarsi con i giocatori, ma quale spiegazioni hanno dato i giocatori plausibili per capire questi cani improvvisi di attenzione, di concentrazione? Ma guarda, motivazioni ce n'è mille, ecco la mia sensazione, questo non è quello che ho recepito da loro, ma l'idea che mi sono fatto io in queste quattro settimane, è che è una squadra molto fragile dal punto di vista psicologico, dove manca della personalità nei momenti difficili delle partite, che vengono affrontati sempre alla ricerca di una soluzione individuale e mai collettiva e questo poi complica le cose perché le partite così non si riescono a vincere e quindi diventa, non dimentichiamoci che noi abbiamo vinto tre partite nel giorno di ritorno, abbiamo vinto una partita fuori casa e due partite in casa, se non mi sbaglio, se non ho fatto male i conti. Ecco, quindi insomma questi sono dati abbastanza, che c'è poco da parlarci sopra, è evidente che questa squadra ha delle fragilità clamorose, io sono andato a rivedermi come faccio sempre la partita dell'andata con Brindisi è stata incredibile, perché la partita a due minuti dalla fine era vinta, stravinta, è finita, è strafinita e da quel momento lì in poi sono state solo soluzioni individuali, è solo un rimpallarsi responsabilità che però non sono l'atteggiamento giusto di una squadra di paracanestro, insomma, in momenti difficili ci si aiuta, non ci si chiama fuori. Purtroppo questa squadra qua non è mai riuscita a farlo nei momenti topici, è riuscita a farlo nelle partite in cui paradossalmente non aveva quasi nulla da perdere, nel senso che quando giochi contro Milano e sei col cuore leggero e sai che anche se perdi nessuno non potrà dire niente perché le altre sono nettamente più forti, hanno giocato sereni e compatti. Quando poi invece c'è da prendersi responsabilità nei momenti topici e calienti, in quel momento lì si è più pensato a guardare la pagliuzza nell'occhio del compagno che la trova nel proprio e questo è un atteggiamento che non porta a nessuna parte. Però di queste cose i ragazzi sono consapevolissimi perché sono stati più volte sottolineati, penso che lo fossero stati anche molto prima che arrivassi io, non ho assolutamente la presunzione di avere scoperto qualcosa di l'acqua calda, però evidentemente non si riesce ad avere, però adesso vorremmo vedere una risposta vibrante, al di là del risultato vibrante, vogliamo vedere questo atteggiamento sul campo, con queste tre partite lo vogliamo vedere, poi dopo la società tira le somme. Coach, giustamente hai fatto un presente che tutti siete in discussione in questo momento nel senso che comunque i contratti sono in scadenza, quindi c'è da valutare quello che si farà il prossimo anno, in settimana, ho parlato anche decennese, ho detto un paio di concetti, ma se ipoteticamente a Scandone dovesse partire da Frates, da cosa hai ripartito? Ma guarda, questo è un momento impossibile per darti una risposta, non mi metti veramente in difficoltà, non riesco a risponderti, non ci ho neanche proprio mai pensato, sono qui che sto cercando in tutti i modi di riuscire a tirar fuori da questo gruppo un po' di animus pugnandi, poi quello che potrebbe essere, che sarebbe, lo deciderà la società dopo il 10 di maggio.